I diritti in diretta, in collaborazione con CGL, Inca, Teorema. Diciamo che sono contenuti già ripresi dalla precedente finanziaria, quindi non ci sono delle novità in termini di tipologie, ma si sono aggiunte casistiche nuove. Ci sono alcuni punti che dovremmo mettere stasera in evidenza sui rinnovi pensioni 2018, William, perché sono arrivate tante richieste allo sportello di chiarimenti sui pagamenti di gennaio. E stasera ne approfitteremo per cercare di dar conto un pochino a tutte le situazioni che, come dire, si sono sviluppate, che riguardano i pensionati ante 2015, i pensionati dal 2016, perché la variazione al primo di gennaio ha subito in molti casi alcune situazioni che lasciano un po' perplessi i pensionati, che ovviamente quando si vedono calare l'importo in pagamento si rivolgono ovviamente al patronato, ma stasera cerchiamo di darvi qualche elemento per poter utilizzare e soprattutto per poter controllare gli strumenti che ricevete. Perché è vero che l'istituto non invia più nulla a casa rispetto ai mandati di pagamento, ma sono comunque esigibili dal sito se io ho l'accesso col mio PIN dispositivo personale. Dall'altra parte, eventualmente, si può attendere l'emissione del modello OBSM, che dovrebbe essere fruibile attorno alla fine di febbraio e che ci consentirà di controllare ciò che è stato effettivamente operato sulla pensione. Io naturalmente, voi sapete, potete intervenire in diretta in studio allo 0522 304463 o attraverso gli sms e whatsapp al 342 199 5675. Vi invito a non usare il numero di sms e whatsapp per chiamare perché non è possibile utilizzare la telefonata in diretta, non potreste, come dire, essere messi in linea con lo studio. Prendo la chiamata che è arrivata subito ed è la prima della serata. Benvenuti. Pronto? Niente, io volevo chiedere un'informazione. A me mancano pochi mesi per andare in pensione. Sì. Mi ha fatto una proposta di una soluzione per time di 4 ore. A livello contributivo per lezze valgono 8 ore o solamente 4? Allora, lei intanto adesso è in disoccupazione? No, finita. L'ha finita e sta attendendo che cosa in particolare? L'affluzione di una normativa specifica o stava versando i versamenti volontari per maturare il requisito? No, niente. Adesso non sto adrescendo niente, mi hanno fatto una proposta di assunzione e la prima partai 4 ore il giorno. Ok. Le hanno dato anche un'indicazione di salario? No. Quella è fondamentale. Adesso cogliamo l'occasione della telefonata, Silvano, così sfatiamo un mito che non è il numero di ore, in realtà che, come dire, c'è un meccanismo un po' più complesso. Lo spieghiamo a lei come agli altri. Grazie della telefonata. Sì, allora, innanzitutto ci occorrono un po' più di elementi per comprendere meglio questa situazione, perché a seconda che il soggetto abbia più di 18 anni al 95 o meno, la situazione potrebbe aprirsi scenari diversi. Comunque, in caso di part-time, è fondamentale capire il valore della retribuzione oraria che dovremmo confrontare con il valore della retribuzione che aveva in precedenza. Perché, come diceva Cinzia prima, non sono tanto il numero di ore, perché le ore, in caso di part-time, per il calcolo della parte retributiva, vengono rapportate, di fatto c'è un rapporto fra retribuzione e ore effettivamente lavorate, in modo che la media non diminuisce se il valore della retribuzione oraria è pari o uguale a quella che aveva in precedenti attività lavorative come dipendente. In questo caso, prima di accettare un rapporto di lavoro a part-time, bisogna fare una verifica per capire e fare un confronto sulle retribuzioni che ha avuto in precedenti rapporti di lavoro, in modo da poter eventualmente verificare se si determina un calo della retribuzione media pensionabile e di conseguenza un calo della pensione, almeno per quello che riguarda la parte retributiva. Per quello che riguarda la parte contributiva, che può andare dal gennaio del 1996, se non avevi 18 anni di contribuzione dal 1995, probabilmente l'IAPER che ha detto che è vicino alla pensione, oppure da gennaio del 2012, in questo caso la parte contributiva diciamo che aumenta meno perché non esiste il calo in questo senso, perché parliamo di un accantonamento in percentuale dell'imponibile, in questo caso essendo l'imponibile più basso perché lavora solo 4 ore, l'accantonamento è minore rispetto al lavoro a tempo pieno, però non si determina una diminuzione del trattamento, cosa che invece avverrebbe nella parte retributiva se andiamo a calare la retribuzione media settimanale. Quindi invitiamo questo signore, prima di accettare rapporti di lavoro, non ha specificato per quanto tempo lo farebbe, chiaramente se è una durata limitata nel tempo, anche l'eventuale danno potrebbe essere molto lieve, però invitiamo questo signore a fare questa verifica per evitare problemi poi sulla futura pensione. Diciamo che è significativo, nel senso che vengono, perché l'idea è che il numero di ore possa no, in questo caso bisogna farsi dare anche un'indicazione del salario che vado a percepire meglio ancora della retribuzione media pensionabile che è un dato ancora diverso rispetto a quello del salario perché questo ci aiuta a fare una consulenza corretta e puntuale da questo punto di vista. C'è un'altra telefonata in linea che prendo subito. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Ci volevo chiedere, circa un mese e mezzo fa mi sono arrivate due lettere, una a me e una a mio marito, del 2014-2015. E dicono che a quell'epoca avevano pagato di più, adesso non so, io le devo far vedere ancora, mi sa dire qualcosa? Dunque, le lettere signora dicevano che lei non aveva presentato il modello RED? Mi aiuti a capire. Ma non mi ricorda adesso, guarda. Dice che ci vogliono delle firme, non capisco. Allora, intanto bisogna vederle fisicamente per capire quali sono le richieste. Ne approfitto per dire che le richieste dell'istituto vanno sempre verificate entro i termini che sono contenuti nelle comunicazioni. Quella dovrebbe contenere la data del 28 di febbraio. Quindi lei, entro quella data, deve fare tutte le verifiche del caso. Potrebbe riguardare il modello RED non comunicato per gli anni 14 e 15 e bisogna capire quale è la fattispecie. Potrebbe essere una richiesta di comunicazione dei ricoveri ospedalieri se ci sono delle condizioni di invalidità. Ma, ma caro, parlo di mio marito perché ce l'ho allettato... Quindi ha l'accompagnamento. Ha l'accompagnamento. Quindi probabilmente c'è anche una richiesta sui ricoveri ospedalieri. Quindi è bene che lei lo faccia in tempi brevi. Lo faccio vedere. Bravissima, perché se no le mancate comunicazioni poi producono dei guai. Nel senso che si sospendono le prestazioni. Quindi è bene nel momento in cui l'istituto mi fa una richiesta di carattere ufficiale muoversi in modo da verificare. Quindi va al patronato... Io ho provato a telefonare, Sieta, io ho provato a telefonare lì a ufficio pensionato. E loro mi hanno detto probabilmente che ci vogliono delle firme. Ci vogliono. Però lei intanto venga a verificare quali sono le lavorazioni da operare. Poi, in base a quello che si dovrà fare verificheremo il problema delle firme. Ho capito. Va bene. Ma lei lo conosce alla Nicoletta. Io sono telefonata a lei. Però io non ho presente le richieste. Quindi bisogna che guardiamo le lettere. È assolutamente necessario. Sì, sì, ho capito. Ok. Grazie. Niente signora, grazie a lei. Così ne abbiamo anche approfittato per, come dire, ricordare che vanno assolutamente ottemperate queste richieste. Perché, insomma, davvero abbiamo visto poi comunicazioni. Tra l'altro, in questi mesi ne sono arrivati di diverso tipo e natura. Debitori da una parte, mancanza di modelli red. Quindi anche i pensionati sono un po' in difficoltà e io lo comprendo. Perché, insomma, diciamo che quando magari devono fare da soli o devono andare nel mondo da soli con queste lettere magari fanno anche un po' fatica a gestirsi. Il sindacato pensionati vi può aiutare a, come dire, dirimere la questione e capire da che parte andare a fare queste richieste che l'istituto richiede e se ci sono delle posizioni debitorie è bene verificarle in modo tale che non si creino degli spiacevoli inconvenienti successivi alla lettera. Prendiamo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, niente. Io... Pronto? Dicente? Sì, adesso sì. Buonasera. Allora, io sono in Naspi fino al 24 di gennaio. Sì. Dovrei andare in pensione in maggio con 42 anni e 10 mesi di contributi. Sì. Io ho avuto una proposta per Tai. Sì. Riesco lo stesso sentando questa proposta di 4 ore al mese andare in pensione a maggio? Allora... Non bastano in 4 ore. No, non è questione che non bastano. Allora, se la telefonata fa riferimento alla prima della serata Silvano ha dato un'indicazione precisa rispetto al salario. Allora, lei bisogna che venga con la proposta non tanto delle 4 ore ma del salario che andrà a ricevere. Quindi, si deve far dare dall'azienda che la vuole assumere l'importo salariale per essere certo che lei matura il numero di settimane sufficienti, Silvano. Esatto. Glielo ribadiamo. Qui ci vuole proprio quello, eh? Sì, ci sono vari problemi. Allora, c'è il problema che spiegavo prima di evitare che questo rapporto di lavoro a part time poi possa anche se lieve perché se deve andare in pensione a maggio diciamo che ormai è arrivato provocare un calo della retribuzione ma soprattutto se ha bisogno di questa contribuzione per arrivare ai 42 anni e 10 mesi c'è un minimale retributivo che deve essere rispettato perché se guadagna troppo poco e quindi sta sotto a questo limite corre addirittura il rischio poi che i contributi non siano pieni che ci sia una compressione e di conseguenza potrebbe ritrovarsi ad andare in pensione qualche mese dopo dovuto appunto al non rispetto del minimale c'è anche questo aspetto qua quindi come le dicevamo è fondamentale capire quale retribuzione percepirà a seguito di questo part time che le hanno offerto quindi la proposta con l'importo del salario questo ci serve per fare una valutazione attente per darle le risposte che lei chiedeva se non ci sono chiamati in linea Silvano c'è un messaggio che mi sembra interessante questo signore che ha fatto domanda di anticipo pensionistico sociale a giugno e che era stata respinta ha ripresentato la domanda entro la scadenza di novembre ora lui la vede accolta ci chiedeva se ha diritto agli arretrati perché le scadenze delle domande di chi aveva diritto o in generale erano scadute al 15 di luglio ma c'era la possibilità di fare la richiesta fino al 30 di novembre e se non ricordo male solo per l'anno 2017 c'è la possibilità di avere l'arretrato è corretto? in effetti quest'anno abbiamo un problema più grosso che sarà quello di salvaguardare la decorrenza dei trattamenti cioè mentre l'anno scorso la domanda di riconoscimento delle condizioni ricordo tutti che questi benefici sia Ape sociale che Precoci sono soggetti a due tipi di domande prima la domanda di riconoscimento delle condizioni che ha delle tempistiche ben definite e che serve per monitorare il livello di spesa perché essendo provvedimenti a finanziamento limitato ci sono delle persone che corrono il rischio di essere escluse se vi fossero troppe domande in più la domanda del beneficio in questo caso l'anno scorso per le domande presentate fino al 30 di novembre la sola richiesta di riconoscimento delle condizioni determinava la salvaguardia degli arretrati dalla decorrenza della prestazione quindi gli arretrati non si perdevano mai quest'anno ahimè è diverso nel senso che noi dovremmo fare la domanda di riconoscimento delle condizioni per il 2018 per i Precoci entro il primo di marzo per l'Ape sociale entro il 31 marzo poi con possibilità che adesso andrà meglio chiarita dalla circolare Inps anche fino al 15 luglio però in questo caso quest'anno non ci sarà nessuna tutela della decorrenza per cui dovremo essere noi perché chiaramente il cittadino non è a conoscenza bene di questi meccanismi che dovremo essere tempestivi a presentare anche la domanda di riconoscimento del beneficio prima che temporalmente arrivi la decorrenza perché altrimenti rischiamo di perdere dei soldi Prendiamo la chiamata che c'è in linea Pronto? Pronto? Sì Avrei due anni ancora due anni di aspettativa retribuita Sì Dove lavora signora? A ente pubblico Ok Sono personaleata Bene Quindi lavora nella scuola? Sì nella scuola Perfetto Le faccio un'altra domanda Il familiare che ha la legge 104 è un familiare di primo grado di secondo grado? Di marito Un coniuge E ho 31 anni di contributi Bravissima Mi mancava solo quell'elemento lì e poi direi che possiamo darle una risposta Adesso io passo la parola a viglia che le dà un'indicazione generale Poi ovviamente come dire questa risposta televisiva non ha la pretesa bisogna andare a verificare bene le condizioni È l'unico figlio questo? No è il coniuge Ah E figli ne ha? Non lo so Non gliel'abbiamo chiesto Non gliel'abbiamo chiesto Sfuggita C'è ancora? No Sì sì ci sono ancora Brava Ha dei figli signora? Un'altra cosa volevo chiedere No no aspetti sono curiosa io adesso Ha dei figli? Sì Due Due Bravissima È una risposta che ci piace Adesso le diciamo perché Faccia lei la sua domanda che dopo procediamo noi Ecco un'altra ancora perché ho chiesto a sindacati mi hanno detto che dovrei fare una domanda a l'indice quest'anno e si riferisce fa tre anni che io compierei il 63 Adesso le spieghiamo come funziona il meccanismo adesso William le spiega bene se lei mette giù il telefono si mette davanti al televisore William le dà la risposta Allora premesso che per il personale della scuola purtroppo le indicazioni non sono così precise come per tutti gli altri lavoratori se c'è stato un soggetto un po' latitante in questa storia c'è stato il MIUR il Ministero dell'Istituzione Università e Ricerca che ha emanato alla circolare normale per le domande di dimissioni che di anno in anno vengono gestite quest'anno addirittura anticipate a dicembre piuttosto che a gennaio ma rispetto a tutte le novità che sono intervenute con la legge dell'anno scorso la APE eccetera eccetera non hanno ancora chiarito nulla nel suo caso però qui abbiamo un incastro di una serie di vicende allora avendo 60 anni di età in questo momento 2018 e avendo la prospettiva di fare due anni di congedo straordinario biennale appunto per l'assistenza del marito disabile grave lei potrebbe fra due anni entrare potenzialmente nella condizione di diritto per quale motivo perché non a caso gli abbiamo chiesto quanti figli ha avuto la novità della legge di bilancio di quest'anno è che per le donne che vanno in APE sociale siccome servono una serie di requisiti per avere diritto alla prestazione ci sono anche dei benefici legati al numero dei figli ma il dilemma più grosso che noi oggi abbiamo è questo l'APE sociale scade il 31 dicembre 2018 è stata una norma sperimentale introdotta l'anno scorso e scade il 31 dicembre 2018 in questo momento gli unici che hanno la certezza di entrare in questo percorso sono quelli che faranno i 63 anni appunto entro il 31 dicembre di quest'anno ci sono stanziate delle risorse ci sono dei fondi creati apposta per la proroga dell'APE sociale anche nel 2019 e negli anni successivi ma su questo non abbiamo nessun elemento di certezza quindi in questo momento a che lei continui a lavorare normalmente o che lei chieda il congetto straordinario biennale di fatto non cambia nulla almeno fino a quando non abbiamo quel chiarimento rispetto alla possibilità di andare poi in APE sociale perché rimanendo suo marito convivente handicap grave avrebbe le condizioni appunto per entrare in questo percorso ma ribadisco servono ovviamente i requisiti contributivi e lei ce li ha serve un'età e lei non ce l'ha e non la perfeziona quindi per il momento purtroppo una risposta positiva non riusciamo a dargliela quindi non avrebbe neanche la possibilità di fare la richiesta a questo punto no in questo momento no assolutamente verrebbe respinta deve attendere però l'anno prossimo o addirittura l'anno in cui dovremo capire se la proroga eventualmente prevista è solo per il 2019 oppure diventa sistematica ad esempio la pensione dei precoci è nata un po' sperimentalmente ma di fatto è diventata a regime ce l'avremo anche fra 2, 3, 4 anni a meno che non la tolgano ovviamente l'APE invece è soggetta dei percorsi di rinnovo e in questo momento il rinnovo non c'è oltre il 31 dicembre di quest'anno quindi se volesse spendere il congedo straordinario lo potrebbe fare assolutamente in costanza di assistenza alla cura del familiare ma senza la garanzia che poi questo venga utilizzato in funzione dell'accesso a pensione ora restiamo alla finestra perché sono tutte situazioni come diceva William che sono in evoluzione e sono in monitoraggio perché qui si tratta di verifiche rispetto ai livelli di spesa né più né meno è evidente che però dall'altra parte quando devono fare delle scelte diventa perfino complicato è che lo scenario successivo è la pensione di vecchiaia non credo che ci siano delle altre situazioni impossibili quindi vista la sua anzianità per forza deve rincorrere l'età il 68 più o meno allora noi abbiamo prima fatto un ragionamento sul rinnovo di pensione non ho visto se c'è una chiamata in linea chiedo alla regia di confermarmi che non ci sia non c'è perfetto abbiamo parlato dei rinnovi di pensione 2018 la criticità più grossa è stata nel fatto che i media hanno detto in modo piuttosto come dire a voce grossa l'aumento ricomincia 2018 l'1,1 in realtà non si è accorto di nulla nessuno quantomeno in gennaio e sarà così per molti anche in febbraio lo rispieghiamo William perché sarà da marzo che ottengono l'aumento effettivo ricostruiamo un attimino a ritroso la storia noi tutti gli anni come è successo quest'anno è uscito un decreto del 20 di novembre che sulla base di alcune previsioni ha stabilito che da gennaio 2018 le pensioni sarebbero state aumentate dell'1,1% ma a novembre quando è stato fatto il decreto non avevamo ancora i dati definitivi dell'aumento del costo della vita né di novembre né di dicembre quindi sono stati stimati tant'è che si sta mormorando lo sapremo domani perché domani esce il comunicato ISTAT di fine anno per quanto riguarda l'aumento costo vita che potrebbe addirittura essere l'1,2 piuttosto che l'1,1 quindi quest'anno avremo degli aumenti che potrebbero essere poi conguagliati in positivo io non lo direi perché porta fortuna vedremo lo sapremo domani comunque quindi alle prossime puntate saremo anche in grado di dare questa conferma perfetto torniamo indietro questo percorso nel 2015 o meglio fine 2014 quando esce il decreto e nel 2015 quando è stato applicato il decreto di allora fece una stima prevedendo un aumento dello 0,3% eravamo già in un periodo in cui l'inflazione era rallentata notevolmente tant'è che poi gli anni successivi andò addirittura in negativo una volta che si è arrivati a fine anno e a chiudere con i dati certi invece dello 0,3% risultò che era 0,2% ma nel frattempo l'Inps ha aumentato le pensioni dello 0,3% e quindi è venuto fuori che noi eravamo a debito per tutti i 13 mesi dell'anno di quello 0,1% di aumento in più che abbiamo avuto in tutti gli altri casi pochi in verità in cui la stessa cosa si era verificata cosa accadeva a gennaio dell'anno successivo si faceva il recupero di quanto percepito in più l'anno precedente ma siccome nel 2016 e nel 2017 non c'è stato nessun aumento anzi addirittura eravamo in negativo perché eravamo in deflazione una norma disse rimandiamo questo conguaglio e lo rimandiamo al 2018 ed è adesso quest'anno siccome c'è l'aumento dell'1,1% dobbiamo recuperare quel debito 0,1 per 13 mesi fa 1,3% a botte di numeri così comprensibili quindi cosa ha deciso l'Inps nel circolare che ha fatto che tutti coloro i quali per effetto di questo ricalcolo e di questo debito che hanno contratto hanno un debito che si ferma a 6 euro lo hanno trattenuto tutto nel mese di gennaio e quindi a febbraio si torneranno la pensione normale aumentata quelli invece che hanno un debito come me superiore a 6 euro la trattenuta viene fatta in due rate una a gennaio e una a febbraio quindi solo a marzo mi troverò la pensione definitiva con l'aumento o tutto questo poi si incrocia con i soliti maledetti percorsi dell'Irco tradizionale eccetera è un altro argomento abbiamo alcuni mesi quest'anno di assestamento solo a marzo aprile capiremo esattamente quali sono i nostri importi di pensione definitivi l'abbiamo ridetto perché insomma in effetti qualcuno lo aveva già visto che la pensione non era aumentata prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? pronto buonasera si buonasera buonasera io chiamo dalla provincia di Modena e intanto vi faccio i complimenti per la trasmissione grazie mille io sono andato in pensione a novembre del 2016 e mi sono trovato nel cesolino di gennaio un conguaglio fiscale altissimo tre quarti della mia pensione diciamo allora ho chiesto informazioni sia ai sindacati che all'Inps mi hanno detto che c'è stato un errore in poche parole adesso non si capisce chi è stato a fare questo errore che mi hanno non pagato diciamo la trattenuta sui familiari a carico in questo caso mia figlia che non risultava nel nel cul diciamo dell'anno precedente ok e quindi dopo mi hanno detto che poi dopo me la rimborseranno io adesso questo non so se è vero si si adesso le spieghiamo il meccanismo nel senso che c'è modo c'è modo ah ok grazie non vanno perduti buonasera allora intanto il primo passaggio è questo essendo andato in pensione nel 2016 l'addizionale regionale comunale che ha pagato nel 2017 era solo rapportata ai due mesi 2016 quindi dal primo gennaio 2018 c'è un calo comunque fisiologico della pensione legato al fatto che le addizionali regionali comunali le pago sui 12 mesi dell'anno e quindi già lì la mia pensione cala il problema che invece questo signore segnala è di un familiare a carico non attribuito sulla pensione che io recupererò in sede di denuncia dei redditi e quindi sono soldini che non perdo mai vado a fare la denuncia li recupero l'impostituto di imposta ad agosto mi restituisce quanto dovuto per l'anno 2017 sistemiamo però la partita 2018 perché se li vogliamo tutti i mesi in più evitando il conguaglio fiscale faccio una variazione di detrazione di imposta che è una banale comunicazione telematica in modo tale che io abbia a giugno perché i conguagli vengono fatti due volte all'anno la situazione dal punto di vista delle detrazioni di imposta correttamente come dire allineata poi se ci sono dei figli che un anno lavoro e un anno no non lo farei lo farei solo sulla denuncia dei redditi se ho dei figli che ancora studiano e hanno un percorso ancora lungo si può pensare di fare questo tipo di operazione anche se normalmente la denuncia dei redditi ormai è diventata come dire usualità quindi in ogni caso non li perdete mai i soldini però questo passaggio dell'addizionale regionale e comunale che era l'ulteriore cosa che tu volevi aggiungere prima è normale che capiti nei primi due anni in cui io sono in pensione soprattutto se non sono andato in pensione il primo dell'anno e quindi è dal secondo anno che avrò la pensione a posto dal punto di vista delle trattenute prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? Pronto buonasera a lei buonasera senta io sono direzze mia io sono un precoce ho fatto la domanda tutti in regola tutto quanto sì e mi è arrivata la risposta dall'Inps che è stata accettata però prima di avere la risposta ho fatto anche la domanda della pensione ok ma lei è un cessato quindi sì io ho finito alla fine del 2014 perché l'azienda in pratica ci ha lasciato a casa in 20 tutti in un colpo ok così poi dopo ho avuto gli ammortizzatori sociali li ho finiti perfetto e non è che posso incidere il fattore che io ho fatto la domanda prima di avere il consenso dall'Inps no 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 della pensione allora lei ha fatto contestualmente la domanda sia di accesso al beneficio che di pensione prima l'accesso al beneficio poi dopo quella di pensione però le ha fatte nel termine del 15 di luglio sì nel termine del 15 di luglio quindi Silvano possiamo dire che c'è una tranquillità assoluta per restare assolutamente tranquillo peraltro erano le stesse circolari Inps la 99 e la 100 uscite lo scorso anno che davano ai cessati perché chiaramente uno che non ha cessato l'attività doveva aspettare la comunicazione per poter dimettersi e quindi anche per fare poi la richiesta di beneficio la stessa circolare diceva che il lavoratore cessato poteva contestualmente presentare sia la domanda di riconoscimento delle condizioni che la domanda di beneficio anche se come abbiamo detto l'anno scorso non era necessario perché solo la domanda di riconoscimento salvaguardava la decorrenza quest'anno invece dovremo proprio fare così e stare molto attento a queste situazioni quindi per lei nessun problema io credo che l'Inps abbia mantenuto se hanno lavorato bene aperto questa domanda di pensione senza chiuderla e quindi dovrebbero procedere alla liquidazione comunque se passa lo verifichiamo e verifichiamo la situazione però nessun problema stia assolutamente tranquillo tra l'altro di percoci silvano non ne abbiamo ancora visti liquidati pagati non ne abbiamo neanche e ancora come dire tranquillizzante l'importante è averla presentata e quindi io ho salvaguardato l'arretrato come dicevamo prima che è la cosa importante se l'istituto tarderà 20 giorni un mese due quello che sarà ancora indicazioni non ce ne sono per poter avere il pagamento lo avrò comunque di fatto dalla decorrenza originaria se l'ho maturata dopo il 15 di luglio sarà dopo se avevo già un requisito maturato alla data di maggio 2017 avrò l'arretrato a partire da quella data quindi stia assolutamente tranquillo perché non è penalizzante aver presentato la domanda di pensione anzi esattamente il contrario è tutelante in senso assoluto ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità ci vediamo tra poco riprendiamo la chiacchierata insieme a William e Silvano e insieme a voi prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? pronto? buonasera signora buonasera ottima transmissione grazie molto gentile prego signora gentilmente volevo dire questo io sono disabile al 100% c'è la pensione io dal 2004 c'è la rivalità civile io sì allora praticamente volevo dire questo perché io ho 66 anni e 4 mesi sì l'Ips mi diceva che a 66 anni e 6 mesi potevo andare in pensione normalmente sì ma facendo questo passaggio trovo io la pensione normale sì mi sospendono la pensione no no allora adesso le spieghiamo come funziona il meccanismo di trasformazione tra l'assegno di invalidità di cui lei è titolare e la pensione di vecchiaia nessun problema dal punto di vista del calcolo tra l'altro al più quella pensione resta l'assegno di invalidità quindi non c'è un rischio di calo o di variazione verrà sostituita possiamo dire Silvano che non ci sono come dire rischi di nessun tipo può solo aumentare perché tutto al più resta uguale diciamo che esiste una norma di salvaguardia per cui in caso una pensione di invalidità assegno ordinario legge 222 dell'84 venga trasformata in pensione di vecchiaia viene garantito l'importo in pagamento se per una questione di calcolo col nuovo importo dovesse calare in questo caso per questo signore qua io non so se aveva valutato visto che al 100% una pensione di vecchiaia in deroga ma quella si poteva ottenere a 60 anni per un uomo però bisognava avere della contribuzione da lavoro dipendente perché se aveva prevalentemente contribuzione autonoma probabilmente mi viene da pensare che non poteva farlo perché altrimenti le sarebbe già stato suggerito da un bel po' di tempo adesso l'età sono 66 anni e 7 mesi fino alla fine del 2018 quindi qualche mese prima si presenta una domanda in via telematica proprio di pensione vera e propria in trasformazione dell'assegno e il suo importo mi creda non subirà sicuramente nessuna diminuzione speriamo che per una questione di rivalutazioni poi riesca addirittura ad aumentare l'importo dell'assegno di invalidità come avviene quasi sempre in questi casi ho solo un dubbio che non abbiamo chiarito se si trattasse di una pensione di inabilità quindi con un tipo di come dire concetto diverso non sarebbe trasformabile in pensione di vecchiaia lo dico perché qualche volta io si chiama nello stesso modo l'una e l'altra se fosse un'inabilità con la maggiorazione contributiva a suo tempo riconosciuta non avrebbe la possibilità di essere trasformata in pensione di vecchiaia quindi con una semplice telefonata lo possiamo risolvere in ufficio attraverso come dire i tabulati che abbiamo telematici in modo da capire bene com'è fatta la prestazione prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto si buonasera signora complimenti per la trasmissione grazie molto gentile e chiedo scusa per la voce ma volevo chiederle questo siamo tutti un po' ammalati quindi la perdoniamo senz'altro grazie allora volevo chiederle questo io ho una mamma invalida al 100% con legge 104 e la legge 104 è stata sospesa in quanto mia madre l'ho messa in una struttura poi adesso le condizioni ci sono aggravate e la struttura mi ha rilasciato un foglio dove c'è attesta che la mamma ha bisogno di assistenza in via continuativa è regolare che io posso prendere sia i tre giorni di permesso mensile che il congedo eventualmente per due o tre mesi per vedere come va la situazione allora intanto la casa di riposo nell'attestazione ha richiesto la presenza continua del familiare o solo in determinate condizioni continua lei lavora in un ente pubblico o in un azione privato perfetto allora io le direi questo intanto l'attestazione della struttura è assolutamente necessaria quando abbiamo una condizione lei può fare la richiesta senza altro dei tre giorni e cause ostative non ce ne sono per i tre giorni al mese nel senso che si richiede all'istituto l'autorizzazione a poter fruire dei tre giorni di permesso e non ci sono particolari come dire motivi per cui l'istituto debba negarmi quell'autorizzazione la condizione invece del congedo straordinario è un po' più complessa da una parte perché qui non stiamo parlando di una malattia terminale ma di una malattia geriatrica però se la signora avesse necessità io sarei per fare la domanda assolutamente voi ne pensate esattamente come me ma sì perché il concetto di assistenza partiamo dal concetto di ricovero che in sé esclude sia il diritto alla 104 sia il diritto al congedo è derogato che è stata sospesa no no infatti è corretto quello che lei ha fatto è correttissimo questo è il criterio prevede una serie di eccezioni che sono state in qualche caso scritte nella legge in particolare ai fini del diritto al congedo straordinario o in altri casi nelle circolari per quanto riguarda la 104 anzi per il congedo dovremmo essere ancora più tranquilli proprio perché è una disposizione di legge che prevede che nonostante uno sia malato terminale in coma vigile o abbia bisogno appunto di un'assistenza continua nonostante il ricovero io abbia il diritto ma lo stesso principio si estende anche alle 104 quindi direi che in entrambi i casi non dovremmo avere problemi io chiederei comunque l'autorizzazione assolutamente cioè lei intanto può chiedere i tre giorni come dire per sistemare la faccenda e fare anche la richiesta del congedo straordinario per un periodo che deciderà lei quale sia un mese settimana quello lo può fruire come dire in tempistica che decide lei l'unica attenzione che va accolta è quella dell'anticipo al datore di lavoro che va concordato in un qualche caso laddove il datore di lavoro non volesse il preavviso di legge perché se no il preavviso di legge previsto è di 60 giorni per cui se l'azienda lo volesse tutto dovremmo un attimo come dire cercare di capire come svilupparlo c'è un ulteriore problema che è quello della firma dell'invalido e quindi vedremo come risolverla se la signora è ancora in grado di firmare bene perché ci vuole comunque il foglio firmato dall'invalido la signora la signora non può firmare perché non è in grado di fare questa è una demenza semile molto grave e quindi bisognerà capire come risolverlo per cui lei quando verrà allo sportello cercheremo di capire come gestire la modulistica perché la firma dell'invalido è un passaggio necessario se la signora prego o la procura perfetto allora lei ha già risolto il problema perché la procura la fa uscire da tutte le altre incombenze infatti stavo dicendo a meno che non ci sia un'amministrazione di sostegno o un atto di tutela come nel suo caso quindi lei è a posto con la coppia della procura può venire a fare le entrambe due le richieste le struttureremo in base alle sue esigenze si fa la richiesta all'Inps ma io come diceva Viglia mi sentirei proprio molto tranquilla l'unico dubbio che mi viene sul congedo straordinario è la verifica di ciò che ha scritto la casa protetta perché l'Inps è puntiglioso da questo punto di vista però direi che ci sono tutti gli elementi per poterlo fare quindi grazie grazie a lei così abbiamo ripassato anche un po' la norma sulla legge 104 perché capita di sovente tra l'altro ultimamente con le malattie oncologiche i ricoveri per le cure insomma succede spesso di dare queste informazioni purtroppo però sono importanti perché servono a tutelare assolutamente anche l'assistenza all'invalido quindi sono fondamentali io vi invito a non usare il numero di cellulare per le chiamate perché non posso utilizzarlo in diretta potete mandare un messaggio un sms un whatsapp risponderemo in settimana ma questo non può entrare assolutamente in diretta prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? pronto? sì buonasera buonasera senta io chiamo da Reggio Miglia sono ho circa 39 anni quasi 40 di servizio di lavoro sì e praticamente lavoro in un'azienda che è quasi in chiusura diciamo e adesso volevo fare siccome ho il diritto di fare diciamo per il precoce parlavo io perché mi hanno chiesto cioè potrei fare domanda di disoccupazione la NASPI sì per giusta causa si chiama perché praticamente non ricevo stipendio da parecchio dimissioni per giusta causa lei vuole fare una richiesta di dimissioni per giusta causa esatto no chiedevo solo la mia domanda era se arriverei a 41 anni perché la NASPI mi hanno detto che sono due anni con i 41 anni poi se c'è possibilità di andare in pensione o rimango preso da aspetti solo un attimo mi deve dire cortesemente se aveva naturalmente l'anno prima dei 19 che è la sì sì esattamente quello sì perché ho iniziato a 17 anni allora il concetto di andrò in pensione con i precoci Silvano non è una garanzia spieghiamolo bene 41 anni intendevo arriverai a 41 e mezzo forse 42 41 e mezzo 42 anni tra due anni va benissimo però la normativa sui precoci prevede un tetto di spesa teorico anno per anno sono operazioni sono operazioni un po' pericolose non è detto che non si possa fare assolutamente però insomma quando si ha a che fare con un provvedimento che ha dei finanziamenti limitati un po' di margine di rischio c'è sicuramente ma comunque se anche venisse superata la soglia di spesa avrebbe un posticipo del trattamento non è detto che non ci vada la cosa invece che deve essere fatta con criterio è che deve essere terminata tutta la naspi a disposizione perché questo prevede la norma quindi va benissimo la dimissione per giusta causa che è una delle cause per poter entrare in questo meccanismo deve terminare tutta la disoccupazione dalla fine della disoccupazione devono essere trascorsi tre mesi che sono elemento di diritto quindi anche lì bisognerà poi vedere in che anno si concludono i tre mesi dopo la fine della naspi perché lei avrà maturato il requisito come precoce in quell'anno cioè non quando finisce la naspi non quando farà i 41 anni ricordo che dal 2019 saranno 41 anni e 5 mesi perché il requisito dei precoci aumenta e non ci sono deroghe quindi a questo punto terminata la naspi terminato i tre mesi dalla fine della naspi bisogna vedere in che anno è perché allora lei potrà fare domanda di riconoscimento delle condizioni in verità la domanda di riconoscimento delle condizioni la può fare subito appena finito la naspi però facciamo che la finisca nel 2019 ma con i tre mesi mi cade nel 2020 lei avrà il requisito come precoce per l'anno 2020 e la conseguenza e domanda di riconoscimento delle condizioni che dovrà essere fatta nel 2020 quindi è un meccanismo un po' complicato ci sono ci abbiamo sempre il limite di finanziamento che se venisse sforato potrebbe portare una risposta della serie andrà col contingente dell'anno prossimo non lo sappiamo perché abbiamo visto che l'anno scorso siamo stati ben lontani dal quindi con tutti i dubbi del caso però è un'operazione specialmente se c'è una situazione dove lei mantiene un rapporto di lavoro ma non viene pagato quindi è una situazione che può essere presa in considerazione assolutamente sì poi mi viene da dire se strumentalmente volessimo costruirla ma mi viene da dirla così sarebbe il caso di farla subito perché in questo modo io potrei presentare la domanda entro la scadenza perché avrei prima parte finito l'ammortizzatore sociale esatto ma sarei entro la scadenza naturale delle domande che si fanno entro il trimestre dell'anno quindi insomma tutto sommato si potrebbe fare qualcosina però come Silvano diceva la garanzia che i 41 o i 41 indicizzati quello che saranno bisogna come dire però costruirla bene con la posizione alla mano per non rimanere come dire in mezzo alla porta con i contributi con il fatto che ci sono gli aumenti di speranza di vita con cui dal 2019 dovremo fare i conti anche con i 41 anni quindi anche quelli dovranno essere valutati attentamente è opportuna una consulenza secondo me come dire più dettagliata a viso proprio per costruirla bene nel senso che va fatta bene ti pongo William questa domanda perché è interessante nel senso che allora intanto l'ape volontaria lo diciamo non ci sono novità e su questo non ci piove o meglio la novità è che si è detto che venerdì c'è la novità no venerdì Padovan ha firmato le convenzioni quindi stiamo aspettando la pubblicazione quindi le convenzioni con l'Abbio con l'Ania le notizie di stampa sono state firmate quindi potremmo essere addirittura d'arrivo l'Inps ha detto che le circolari le ha già fatte addirittura prima di fine anno sta aspettando il parere del ministero quindi sembra tutto pronto però questa signora mi chiedeva ed era una domanda molto come dire per noi lineare ma di là dal teleschermo è più complicata intanto se il fatto che abbia un'altra prestazione pensionistica di reversibilità crea una causa ostativa sulla richiesta di ape volontaria assolutamente no e se per l'ape volontaria c'è lo sgravio degli anni come per l'ape social così lo chiariamo perché non è così la signora poi avrebbe i requisiti lo stesso perché ha 30 anni 63 di età quindi avrebbe tutti i requisiti possibili per l'anticipo pensionistico quello a pagamento per intenderci ma la pensione non crea nessun problema no 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 la pensione di reversibilità è tutta altra storia quindi non ha nessuna influenza anzi magari potrebbe essere che l'ape una volta liquidata influisse come livello di reddito sull'altra pensione ma non certamente la reversibilità sull'ape però in questo caso se è un'ape volontaria che non fa nemmeno reddito di nuovo anche su questo versante non avremmo problemi però il problema vero è questo l'ape la cosiddetta ape rosa di cui abbiamo parlato anche in altri momenti cioè lo sconto per le donne ai fini dell'ape introdotto dalla legge di bilancio vale solo per l'ape social cioè per quelle fattispecie dove sono richiesti o 30 o 36 anni di contributi perché fai lavori gravosi e al fine di quel requisito contributivo posso avere un anno per ogni figlio fino al massimo di due siccome per l'ape volontaria sono sufficienti 20 anni di contributi questo beneficio per l'ape volontaria non vale e quindi non c'è nessuno sconto per le donne tra l'altro i 20 anni ormai è il requisito minimo in assoluto al di sotto del quale non si può più andare in pensione quindi perfetto prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? pronto buonasera prego signora dica pure complimenti per il nostro programma grazie io ho ricevuto la lettera dell'Inps la busta arancione sì dove risulta che io ho 57 anni risulta che andrò in pensione a luglio di 2033 sì succede che questa busta risulta soltanto in 17 anni lavorate in Italia e non risulta in 16 anni lavorate in Brasile allora lei ne ha 17 in Italia e sta tuttora lavorando? sì perfetto in Brasile quanti ne ha? 16 anni ok quindi lei assommando le due contribuzioni avrebbe circa 33 anni di contributi è corretto? esatto e non capisco perché non risulta perché non risulta da quel tipo di modulistica adesso glielo spieghiamo così a lei come a quelli che hanno ricevuto la busta arancione che in realtà apporta solo l'indicazione dell'età della pensione di vecchiaia dove ci sono delle condizioni contributive più complesse come la sua ma come quella di altri se ho delle casse se ho versato nell'ente pubblico quella data è da rivedere sulla base della contribuzione lei andrà sicuramente se continua a lavorare un pochino prima della pensione di vecchiaia bisognerà fare i conti Silvano poco prima probabilmente quella data del 2033 che sarebbero 73 anni perché dovrebbe essere un 60 adesso non ha specificato modo ha detto 57 anni quindi immagino sia un 60 è dovuto al fatto che avranno considerato solo la contribuzione in Italia non arriva al limite di liquidabilità sicuramente quindi hanno considerato una pensione contributiva con 5 anni di contribuzione effettiva e i 70 indicizzati che andare avanti al 2030 arriveranno già a 73 quindi in questo caso chiaramente il contenuto delle buste arancioni abbiamo visto che crea un po' di confusione negli ultimi tempi in primo luogo perché nelle ultime inviate si sono dimenticati il requisito della pensione anticipata hanno messo solo quello della vecchiaia per cui uno che arriva al requisito contributivo ci rimane parecchio male come è capitato in persone che sono venute negli ultimi tempi addirittura questo è un aneddoto come dire che ha circolato è arrivato un signore ve lo garantisco era già in pensione da un mese gli certificavano la pensione dopo tre anni era come dire il massimo diciamo che ha creato parecchia confusione perché gente che magari doveva andare dopo alcuni anni vedersi il 2027 28 30 in questo caso la situazione è particolarmente complessa nel senso che abbiamo contribuzione estera da uno stato convenzionato per il quale ci sarà tutta per la quale ci sarà tutta una procedura in convenzione da fare per ottenere poi la certificazione della contribuzione estera che non può sicuramente essere contenuta nella busta arancione perché lì legge solo la contribuzione versata in Italia quindi a questa signora se ha 16 anni anche in Brasile mi pare abbia detto sarà comunque destinataria di una pensione di vecchiaia ma una pensione di vecchiaia che sarà intorno al 2028 non sicuramente intorno al 2033 quindi già lì anticipiamo 5 anni ma soprattutto anche il meccanismo di calcolo adottato sarà diverso e più conveniente per quanto poi riguarda la richiesta della contribuzione brasiliana probabilmente lei oggi è ancora lontana però si può iniziare a fare una serie di richieste per ottenere la certificazione che prevedono che lei porti la documentazione poi si fa una richiesta all'Inps che si collega con la cassa di previdenza brasiliana per farsi poi mandare una certificazione ufficiale e questo lo può fare quando vuole in pratica però non aspetti di essere vicino alla pensione perché altrimenti poi siccome chiaramente ci sono di mezzo dei paesi esteri la procedura potrebbe essere lunga potrebbe poi provocare un ritardo del pagamento quindi può anche aspettare non farlo adesso però non aspetti in ultimo magari qualche anno prima parte per fare queste richieste il documento è le 205 se lo dovesse già avere è sufficiente che ce lo porti se non aveva magari già richiesto all'ingresso prendiamo la chiamata che c'è in linea pronto? Signora buonasera buonasera lei ascolti io chiamo da Bologna sì e io ho già chiamato altre due volte diciamo nell'ultimo anno ho sempre avuto risposte molto competenti esaurienti da voi mi dovete scusare se forse mi ripeto volevo completare il quesito che avevo posto diciamo nelle volte scorse sì io mi aggancio quello che diceva signor William su quelle piccole cioè piccole ultime novità parliamo di app volontaria sì quindi convenzioni con le banche assicurazioni e la circolare dell'IMS che erano sono i due elementi che dovrebbero completare ecco sì e poi per vedere se finalmente parte sì io sono una classe fine 55 sì quindi io compio 63 anni proprio alla fine del 2018 sì nel dicembre sì io avrei questa intenzione l'avevo manifestata anche nell'altra domanda ma la volevo corredare con un'ulteriore richiesta sì io avrei intenzione io sono sono un dipendente pubblico in possesso degli altri requisiti perché quello che ballava era quello dei tre anni e sette mesi che parograffia la proroga dell'intervenuta che comprende il 2019 mi dovrebbe mettere a riparo come si dice dal problema sì io avrei intenzione di come dire di congedarmi dal lavoro se fosse possibile nel maggio del 2019 sì al compimento praticamente dei 63 anni e 5 mesi ok perché in quel modo se non sbaglio sarei a tre anni e sette mesi praticamente esatti da quei 67 che dall'1-1 2019 diventa l'età di vecchiaia diciamo ufficiale ecco e quello che volevo capire è se in vista di questa mia di questo mio orientamento io posso muovermi in anticipo perché ci sono appunto i vari passaggi la certificazione che deve dare l'info i requisiti poi la vera e propria domanda di ape eccetera cioè muovermi in poche parole prima del compimento dei 63 anni faccio per dire anche nel corso di quest'anno non so se riesco a essere chiaro è tutto chiaro allora io le diamo la risposta la faccio attendere qualche minuto perché sono in ritardo con la pubblicità quindi lancio la pubblicità proprio una precisazione sulla tempistica sul fatto di potersi muovere con un certo anticipo bene alla ripresa della pubblicità le diamo la risposta immediatamente io metto giù e la ringrazio tanto grazie a lei quindi lanciamo la pubblicità che siamo in leggero ritardo e subito dopo diamo la risposta a questo signore di Bologna riprendiamo la diretta e riprendiamo con la risposta che dovevamo dare al nostro telespettatore di Bologna infatti ricordo i precedenti colloqui che abbiamo avuto allora adesso abbiamo la certezza della proroga dell'ape volontaria anche per il 2019 quindi tutti quei dubbi quel margine di dubbio che ci eravamo tenuti la volta precedente stavolta lo possiamo sciogliere e non c'è nessun problema fra l'altro qui e adesso dovremo aspettare in questo caso la circolare dell'Inps perché sulla tempistica delle domande qui non abbiamo delle cadenze così importanti perché non c'è un finanziamento come per l'ape volontaria social e per i precoci quindi dovrebbe uscire a breve anche la circolare che ci chiarirà il tutto quindi noi avremo bisogno di cose di una certificazione dell'Inps che dica che io ho l'età e non so se lo potrò fare molto prima del compimento dell'età è probabile che lo possa fare in prossimità del compimento dell'età e quindi verso fine anno e che ho i vent'anni di contributi punto non ci sono altre cose l'Inps non deve certificare altri strumenti quindi questa certificazione dovrebbe essere semplice il percorso che lui ipotizzava di uscire a maggio del 2019 quindi avendo già consumato i 5 mesi di speranza di vita del 2019 a questo punto però mantengono due incognite quando farà la domanda di ape volontaria dovrà sottoscrivere nel contratto che stipulerà con la banca la richiesta di finanziamento o meno dell'eventuale percorso di allungamento col quale lui dovrà fare i conti perché 5 mesi nel 2019 sono certi nelle previsioni abbiamo anche nel 2021 altri 3 mesi e nel 2023 un altro mese per cui potrebbe ballare 3 o 4 mesi in più di durata del finanziamento io potrei decidere di accontentarmi da maggio all'età punto oppure di chiedere anche la copertura degli eventuali allungamenti che arriveranno dopo ma questo lo metteremo a fuoco appunto dopo la circolare dopo la circolare avremo il punto delle procedure direi che però su quel percorso grossi problemi non dovremmo avere di nessun tipo no anche perché insomma adesso non abbiamo ancora degli elementi perché è vero che l'IMS dice che le circolari sono pronte ma non le ha viste nessuno quindi fino a che non le leggeremo nelle modalità non sarà come dire possibile fare queste valutazioni attente e qui c'è proprio da fare una valutazione molto attenta tra l'altro l'ape volontaria in alcuni casi mi è capitato allo sportello potrebbe essere un'aggiunta all'ape social dove io abbia un importo di pensione superiore al limite quindi insomma ci sono una serie di strumenti per cui potremmo utilizzarli in alcune particolari condizioni però bisognerà poi vedere il costo effettivo che ha questo tipo di operazione per cui insomma io stasera ho promesso al telegiornale e lo devo mantenere perché le promesse sono debito di dare qualche indicazione Silvano sulle novità degli aventi diritto e in particolare faccio riferimento alle casistiche aggiunte sui precoci e sull'ape social che hanno come dire un po' allargato la platea degli aventi diritto diamo qualche indicazione in questo senso perché ancora secondo me questo non ha avuto la cassa di dissonanza corretta per cui vorrei che lo dicessimo bene allora ce li dividiamo in due io ho app e sociale che sono di più lui precoce così facciamo una cosa fatta bene anche per un'affinità di età facciamo così allora per app e sociale ci sono più novità che per quanto riguarda i precoci le novità riguardano la casistica dei disoccupati hanno aperto cosa che non è stata fatta per i precoci hanno aperto a coloro che cessano il rapporto di lavoro per scadenza di contratto a termine sappiamo bene che le cause della perdita del lavoro nella precedente legge prevedevano per l'ape sociale licenziamento dimissioni per giusta causa risoluzione consensuale a seguito di intimazione di licenziamento e quant'altro erano rimasti tagliati fuori coloro che avevano il contratto a termine che scadeva quindi hanno aperto anche a coloro che vanno in naspi per scadenza del contratto a termine però introducendo un requisito contributivo alla scadenza del contratto il soggetto deve aver lavorato per 18 mesi nei 36 mesi precedenti quindi diciamo hanno introdotto questo requisito di periodo lavorato per evitare che possa entrare nel meccanismo coloro che hanno un contratto a termine particolarmente breve che magari in precedenza non avevano lavorato e questa è la prima apertura seconda apertura per coloro che assistono un familiare portatore di handicap era un parente di primo grado o il coniuge convivente ora con la ultima legge di bilancio con la legge 205 si arriva a parenti di secondo grado e affini che sono i parenti in linea del coniuge a patto che i genitori e il coniuge dell'invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano deceduti o mancanti e questa apre amplia di un bel po' la casistica di coloro che prestano assistenza non è cambiato nulla per chi ha un'invalidità personale perché lì deve avere sempre almeno il 74% di invalidità civile ci sono delle novità invece sto sempre parlando di app sociale per i lavori gravosi che sono stati ampliati dalle 11 categorie che conoscevamo dalla legge dello scorso anno a 15 e hanno introdotto queste nuove categorie di lavoro gravoso che sono gli operai agricoli che sono i siderurgici addetti a colata di prima e seconda e quindi addetti comunque a fonderie e marittimi e pescatori che nella nostra provincia insomma non dovrebbero essere tantissimi quindi queste nuove 15 categorie di lavoro gravoso compreso anche quelle che queste quattro nuove che hanno un requisito modificato perché prima bisognava aver svolto attività di lavoro gravoso per sei anni negli ultimi sette adesso hanno introdotto un ulteriore requisito sei negli ultimi sette oppure sette negli ultimi dieci in modo che coloro che hanno avuto periodi di interruzione possano comunque rientrare nella norma in più hanno tolto un limite che parecchi problemi aveva creato l'anno scorso che era il limite del 17 per mille di tariffa inail che era questo premio assicurativo che pagava l'azienda e che aveva escluso alcune categorie vedi le osse nelle strutture pubbliche o alcune addette alle pulizie che non rispettavano questo livello queste sono le novità e in più solo per l'ape sociale c'è la cosiddetta aperosa nel senso che il requisito contributivo per l'ape sociale può essere ridotto e viene abbonato un anno di contribuzione per ogni figlio massimo due anni quindi il requisito contributivo per l'ape sociale che sono 30 anni di contribuzione per tutte le categorie 36 anni per i lavori gravosi può scendere a 28 oppure a 34 per una donna che ha avuto due figli o più questo è un requisito che riguarda solo l'ape sociale perché molte donne vengono e pensano che questo requisito questa riduzione contributiva sia generalizzata ma vale solamente per l'ape sociale dopo lo riprendiamo prendo la telefonata poi facciamo il successivo passaggio pronto? pronto buonasera sono Mauro buonasera Mauro si si io la sento dica pure siamo da Parma le chiedevo una cortesia siccome che mi è arrivata la famosa infatti di Capulta Rossa della pensione siccome per i lavori usuranti perché siccome che io svolgo il lavoro di notte notturno noi facciamo più di 200 notti all'anno notti che qual è l'orario di lavoro? dalle 11 e mezza alle 6 del mattino quindi 11 e 30 6 del mattino e fa più di 200 notti? certo perché noi facciamo due settimane e una di giorno ok quindi le chiedevo se per il fatto siccome dei lavori usuranti siccome che c'è riballo dai 3 anni ai 5 anni per i lavori usuranti noi lavoriamo nelle celle frigo allora aspetti però solo un attimo che vorrei ricostruire un momento certo che età anagrafica ha Mauro? io ho 33 anni quindi io da quello che mi hanno fatto giustamente per andare in pensione il primo il primo di aprile del 2030 mi mancherebbero 12 anni ok e le chiedevo se per caso è stata insomma si è stato fatto qualcosa per per i lavori usuranti per ridurre dai 3 ai 5 anni quindi mancherebbero meno meno anni per andare in pensione se lei svolge un tipo di lavoro notturno di questo genere ha 33 anni di contributi età anagrafica me la dice cortesemente 27, 5, 68 quindi è molto giovane questo signore lo dico perché siamo più o meno cotane quindi devo tenermi un po' su è molto giovane quindi tecnicamente diciamo questo dal punto di vista dell'età anagrafica non rileva perché ai fini delle quote non la possiamo utilizzare possiamo utilizzare però l'anticipo rispetto al fatto che questo numero di notti gli consente di entrare nei vecchi lavori usuranti e non nei nuovi gravosi è corretto il mio ragionamento? sì assolutamente allora gli diamo una risposta come dire su come deve muoversi perché qui il requisito da raggiungere sicuramente sono 41 per il nuovo requisito sempre però che noi abbiamo l'anno prima dei 19 perché questo è un requisito assolutamente necessario quindi l'anno prima dei 19 deve esserci ma se ha 33 di contributi e del 68 se faccio due conti dovremmo probabilmente averli se è così allora a questo punto lui potrà raggiungere il requisito anticipato che vuol dire mi spiego meglio quello appunto dei precoci 41 più l'indicizzazione perché quella non possiamo non possiamo prescindere quindi lui si comincerà a muovere nel momento in cui matura i 41 anni di contributi quindi esattamente tra 8 anni ok quindi con un requisito anticipato rispetto alla norma Fornero per questo numero di notti purché ciò si sviluppi anche nei prossimi anni perché se no abbiamo un problema perché sugli usuranti c'è un altro tipo di requisito che non è quello che citavate voi esatto ci sono i due requisiti per cui bisogna che al momento in cui raggiungiamo il diritto a pensione nei 10 anni precedenti ci siano almeno 7 anni di contributi in attività fatta come lavoro usurante quindi 7 anni con le notti a riproso esatto se non ci sono i 7 perché per qualche motivo ho smesso prima di fare il lavoro notturno devo dimostrare di avere metà della mia vita lavorativa nell'ambito del lavoro notturno e questo è un po' più complicato perché reperire poi tutta la documentazione non è così scontato quindi sarà possibile con quei requisiti entrare nei precoci alle due condizioni che ci insercitava appunto avere l'anno prima del 19 e chiaramente avere i 7 negli ultimi 10 di lavoro usurante con 200 notti ne ha da regalare paradossalmente se non avessero inserito questa norma dei precoci questo signore con le quote non ci arrivava mica prima sì perché era sempre fregato dalle quote la quota è bloccata arrivava prima il requisito fornero 61 e 7 mesi no no perché il problema dei lavori usuranti vecchia norma che prevedeva solo le quote non ha dato accesso se non a pochissimi soggetti se non altro adesso loro possono far valere un tipo di lavoro davvero pesante perché sono 200 notti l'anno sono davvero tante ti limitano secondo me notevolmente la quotidianità mi viene da dire poi secondo me ci si abitua ma è una roba piuttosto sconvolgente almeno vengono premiati in questo senso perché se no con la vecchia norma degli usuranti no non aveva motivo di accedere cioè non aveva modo di accedere in nessun caso ci fermiamo per l'ultimo spazio pubblicitario ci vediamo tra pochissimo riprendiamo la diretta io direi che più o meno come dire gli argomenti per cui ci hanno chiamato abbiamo cercato poi ovviamente ci sono delle situazioni che vanno verificate allo sportello per le quali in diretta non è possibile fare una consulenza attenta e precisa però direi che insomma ci siamo dovevamo però finire il passaggio dei precoci che aveva iniziato Silvano sulla sull'ape sociale però ti sei scordato di dire una cosa quando scade la domanda nel 2018 per l'ape la domanda da previsione della legge della 232 scade il 31 di marzo anche se nella legge e questo lo dovrà chiarire la circolare sembra che venga data possibilità anche entro il 15 luglio e solo le domande dopo il 15 luglio e fino al 30 novembre saranno sottoposte a monitoraggio solo se residueranno delle risorse perché abbiamo anche questo secondo step non si capisce bene se quelle fino al 31 marzo e quelle fino al 15 luglio verranno considerate nello stesso modo adesso questo chiaramente dovrà chiarirlo necessariamente la circolare noi per stare sicuri consigliamo a chi ha la possibilità di farlo e le condizioni di farlo di farlo entro il 31 di marzo poi vedremo di chiarire speriamo che la circolare chiarisca meglio questo punto anche perché qualcuno non potrà perché non ha l'ammortizzatore sociale finito quindi vedremo o la convivenza da più di sempre invece il passaggio sui precoci la cui domanda invece perché così ci complichiamo la vita tanto per complicarci la vita delle scadenze è più facile così primo marzo 2018 per coloro che entrano nel primo step 30 novembre 2018 per il secondo percorso con la stessa logica che prima io ho una proposta però che l'operatore di patronato diventi un lavoro gravoso la farei è un po' perché con questi percorsi è abbastanza complicato perché quando ci mollerà poi diventa beh però insomma cerchiamo di darvi il massimo è un puzzle difficilmente componibile proprio perché ci sono tante di quelle variazioni ora per quanto riguarda invece i precoci con le modifiche delle leggi di bilancio allora come già ricordava Silvano la categoria dei disoccupati rimane quella originaria quindi parliamo di lavoratori licenziati di lavoratori dimesse per giusta causa o di lavoratori che hanno fatto la risoluzione consensuale la DTL con i percorsi i rapporti di lavoro a termine con i precoci non c'entrano nulla solo per l'Appe Social le altre modifiche vanno grosso modo di pari passo con l'Appe Social perché quando parliamo ad esempio della durata dei lavori gravosi anche in questo caso abbiamo introdotto l'alternativa o i 6 negli ultimi 7 o i 7 negli ultimi 10 quindi quello che ci fa più comodo abbiamo introdotto anche qui per chi fruisse dalla 104 o comunque chi presta assistenza il fatto che posso scendere fino al secondo grado di parentela o di affinità e quindi ricomprenderemo molti più figure rimane ovviamente il requisito della convivenza questo è essenziale perché altrimenti il percorso non si apre abbiamo anche in questo caso allungato la tabella i vecchi 11 sono diventati 15 con le 4 figure che prima Silvano ricordava sulle quali fra l'altro non siamo ancora in grado di dare tutti gli elementi di dettaglio perché deve uscire e speriamo che stavolta mantengono puntualmente le date entro 30 giorni quindi mancano ancora 15 giorni il decreto del ministero del lavoro che per le nuove 4 categorie precisa quali sono le mansioni le condizioni particolari come già era accaduto per i vecchi 11 e c'è anche in questo caso la precisazione che per quanto riguarda i lavoratori agricoli per entrare in questo percorso anzi questa cosa vale ormai su tre punti vale per la pe social vale per i pre coach e vale per essere derogati dall'aumento della speranza di vita il lavoratore agricolo per avere i 6 nei 7 o i 7 nei 10 deve avere ogni anno 156 giornate anche qui poi lo preciseremo meglio dopo le circolari e anche in caso di pre coach abbiamo tolto il 17 per 1000 di livello di tariffa quindi dovremmo avere rispetto all'anno scorso una serie di percorsi molto più facilitati perché gli sbarramenti sono caduti in modo significativo per entrambe due le categorie però che sono modificate o che sono aggiunte rispetto ai lavori gravosi la modulistica non c'è ancora quindi lì bisogna appazientare perché non c'è la possibilità di inserire il familiare oltre il primo grado e quindi non riusciamo fisicamente a fare la trasmissione telematica delle richieste e il modello che dovrebbe compilare l'attore di lavoro con le indicazioni delle nuove casistiche non è pronto il mio commento è inutile mi pare che il mio avviso lo dica da solo io darei solo un'indicazione però a questo proposito e se ci sono dei lavoratori che sono già cessati dall'attività lavorativa anche se entro fine mese non sentirete altre novità Cinzia vi terrà informati attraverso anche il telegiornale al mattino e così via se non ci sono delle novità entro fine mese facciamo comunque la domanda vedremo in quale modo con quale formula non c'è la casistica tra l'altro se fossero anticipi pensionisti sociali non c'è il prodotto quindi per noi è complicato lavorare infatti il problema vero è che l'anno scorso avevamo la salvaguardia che le domande fatte entro novembre potrebbero essere retroattive quest'anno non c'è la retroattività e quindi dovremo trovare qualche scamotage per tutelarci per non perdere le tratti come dire l'informazione allo sportello la daremo vediamo qual è la casistica da salvaguardare per noi è lo dicevamo anche fuori onda un problema nel senso che abbiamo ancora le procedure che non ce lo consentono quindi vedremo come fare per tutelare eventualmente i soggetti che abbiano delle esigenze particolari ho fatto attendere un attimo la chiamata in linea mi scuso e la prendo subito pronto? pronto? sì buonasera prego buonasera senta io intanto faccio complimenti per la trasmissione grazie e poi volevo chiederle io sono una persona di 58 anni e ho 40 anni ho 41 anni di contributi più 10 mesi volevo sapere mi scade a novembre volevo sapere se potevo fare la domanda già da adesso o se devo aspettare novembre dunque lei compie i 41 anni e 10 mesi a novembre 2018 a novembre gli ho comiti perfetto sta lavorando sta lavorando come dipendente no artigiana artigiana allora diciamo che la domanda di pensione non si può inviare prima di tre mesi dalla decorrenza quindi lei la potrà presentare a settembre 2018 noi tra l'altro però le mettiamo in scadenzario le trasmettiamo noi alle scadenze quindi volendo si può già preparare la modulistica ma quella domanda non può essere inviata prima di tre mesi perché l'istituto ha delle procedure molto rigide di invio cosa possiamo dire a questa signora intanto ha un'altra domanda no volevo sapere appunto se per non arrivare in ritardo perché appunto io dovrei farla entro il 2018 perché poi il 2019 ci sono dei cambiamenti no no ma lei adesso la tranquillizziamo anche sul requisito maturato in questo modo l'importante è che lei 41 anni e 10 mesi li maturi quest'anno poi dopo di quello che succede dopo non le interessa più però giustamente lei è mi pare che abbia detto un'artigiana quindi una lavoratrice autonoma non ha nemmeno bisogno di cessare il rapporto di lavoro perché la cessazione dell'attività lavorativa per ottenere la pensione la deve fare solo il lavoratore dipendente quindi lei può continuare tranquillamente a svolgere la propria attività e l'Inps presenta la domanda di pensione conviene farla nei due tre mesi precedenti che è sufficiente perché altrimenti rischia che le venga chiusa perché è presentata troppo presto e poi dopo è da riaprire e c'è da tribolare di più quindi le conviene immagino che abbia già fatto tutte le verifiche sul raggiungimento del requisito contributivo in questo caso proprio perché lei non ha nemmeno bisogno di cessare il rapporto di lavoro anche l'estratto conto certificativo o la messa in sicurezza della posizione superflua proprio perché non è necessario che smetta di lavorare quindi si ricordi solamente di presentare la domanda due tre mesi prima della teorica decorrenza in modo che poi l'Inps possa lavorarla con tranquillità lei continua la sua attività una volta definita le daranno gli arretrati dal mese successivo la decorrenza del trattamento quindi una cosa molto molto semplice prima di prendere la telefonata che faccio attendere qualche secondo perché leggevo scorrevo i messaggi per vedere se c'era qualcosa di urgente da portare all'attenzione c'è un messaggio di un signore che è un imprenditore agricolo quindi versa probabilmente come CDCM ne approfitto per ricordare che per gli autonomi le normative che abbiamo citato prima relativamente ai lavori gravosi e usuranti non valgono quindi il lavoro agricolo che citava Vigliamo che ha citato Silvano per le due categorie differenti solo per i lavoratori dipendenti braccianti agricoli lo ripeto perché qualche volta nella confusione noi diamo per scontati alcuni elementi che in realtà non lo sono quindi questo signore andrà con il requisito contributivo ordinario della Fornero quindi probabilmente 43-3 mesi perché mi dice che ha circa 40 anni di contributi così ho dato la risposta al volo prendo la chiamata che c'è in linea pronto? buonasera chiamo da Parma dica pure io sono un 58 ho 36 anni maturati a fine dicembre del 2017 36 36 ho dal 2013 sono in mobilità si finisco la mobilità a fine 2018 chiedevo se ho qualche prospettiva perché lavorare non si trova ha avuto dei figli si ne ho uno sono lavoratrice per cose però non arriviamo al requisito alternativo perché lei mi ha detto 33 anni di contributi alla fine del 2017 36 36 36 36 36 a fine 2017 36 quindi alla fine dell'ammortizzatore sociale ne avrà 37 37 esatto perfetto allora io con questa età anagrafica non ho delle idee voi ne avete qualcuna in più di me? vabbè è abbastanza lontana cioè nel senso che è chiaro che se una volta terminata la mobilità che è chiaramente stata allungata con dei contratti a termine immagino perché se è stata messa in mobilità nel 2013 e la finisce nel 2018 l'avrà sospesa per avere poi svolto dei contratti a tempo determinato immagino comunque in questo caso posso dire solo una cosa è del 58 però nel 58 compie 63 anni nel 2021 potrebbe accedere all'appe sociale ma non abbiamo certezza che sarà reso strutturale lo speriamo ho sbagliato pensando che sia tutto del lavoro dipendente aveva i 57 nel 2015 se non aveva probabilmente i 35 anni nel 2015 se ne ha fatti 36 a dicembre 2017 anche le quote rosa sono precluse bisogna vedere il 2015 io pensavo a quello pensavo ai 35 al 2015 pensavo a quello oppure potrebbe anche se come precoce poi una donna anticipa solo 10 mesi quindi io credo che la soluzione per lei sia valutare eventualmente la prosecuzione volontaria perché se non lo fa ahimè lo scoglio sono dopo la vecchiaia e andiamo a finire nel 2026 più o meno sono 67 e 5 8 mesi adesso vedremo modo con la speranza di vita quindi sicuramente lei terminata la mobilità dovrà valutare se ci sono le condizioni per una una prosecuzione volontaria del versamento contributivo perché altrimenti rimane bloccata 37 anni e deve solo aspettare la pensione di vecchiaia poi si vedrà in corso d'opera se ci saranno degli appigli però insomma è abbastanza distante da qualsiasi diritto farei una valutazione attenta in questo senso della posizione per vedere che non ci siano degli scenari altri rispetto a ciò che ci siamo detti il tempo è volato come sempre voi avete ringraziato noi dall'altra parte ma siamo noi che dobbiamo ringraziare voi per l'attenzione e come dire per la partecipazione che ci date tutti lunedì sere quindi un ringraziamento mio personale va di là dal teleschermo io ringrazio Silvano e William che ci ritroveremo nelle prossime settimane con le solite chiacchierate ringrazio Antonella Vacondio che era in segreteria stasera rispondere alle telefonate Paolo Ronzoni in regia vi do l'appuntamento a lunedì prossimo alle 21 sempre in diretta sempre qui su Telereggio buona serata a tutti buona serata i diritti in diretta in collaborazione con CGL Inca Teorema